Un anno ricco di risultati, il 2011 per Emmaus Villa Franca, 32 le persone accolte, oltre 330 le tonnellate di materiale riciclato, da legno a vestiti a vetro, carte e metalli, progetti di microcredito in Benin, a sostegno della solidarietà di Emmaus Internazionale, ma anche per la solidarietà locale, come per l'asilo notturno o per senza fissa dimora della Caritas Diocesana di Verona. Com'è andato il 2011 per Emmaus Villa Franca? Da un punto di vista economico è andato molto bene, per cui con quello che abbiamo ricavato dal lavoro di una trentina di persone, sono le persone che compongono la comunità, siamo riusciti a far fronte ai bisogni quotidiani della comunità, che non sono pochi, ma nello stesso tempo siamo riusciti a essere presenti in maniera solidale, sia in Italia che all'estero, per circa 100-120 mila euro. Emmaus in Italia, con le sue 14 comunità, coinvolge 350 persone, più tanti amici, e si basa sulla certezza che ogni uomo ha la capacità di riscattarsi, di assumere le proprie responsabilità. La comunità Emmaus è la chiamata a vivere in modo nuovo, in un contesto di servizio, sottolinea Renzo Fior, ricordando un'espressione della BPR che rovescia la prospettiva, bisogna essere degni di servire gli altri, i poveri. Credo che il messaggio fondamentale della BPR che può dare oggi è quello di essere partecipi, di interessarsi e di condividere la vita degli ultimi, non tanto considerandoli come delle persone che hanno bisogno, ma delle persone con le quali si può condividere la vita e si può costruire un mondo migliore. E' questo che noi vediamo nelle comunità, tante persone che arrivano nelle comunità con problemi sulle spalle, con un passato difficile, durante la vita della comunità, all'incontro con gli altri, riescono a dare molto del proprio tempo, della propria fatica, del proprio lavoro per queste azioni di solidarietà, ma riescono anche, soprattutto, a capire che la vita ha un senso nella misura in cui ti metti in relazione con gli altri, i più diversi. Noi nella nostra comunità abbiamo persone che vengono un po' da tutto il mondo, la vita della comunità è pacifica, è tranquilla. Ecco, allora questo capire che siamo in relazione con gli altri, che ci dobbiamo interessare gli uni degli altri, soprattutto dei più deboli, credo che questo sia un messaggio importante oggi in cui prevale l'individualismo, il chiudersi in casa, il non pensare agli altri, il disinteressarsi, il pensare solo a se stessi. Ecco, credo che questo sia fondamentalmente il messaggio più importante che la BPR da oggi.